E ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di PES 2021 su MyClub Oggi andiamo a prenderci qualche giocatore E anche ragazzi la leggenda che ci hanno regalato anche quest'oggi Una leggenda in regalo Quindi ragazzi direi subito di vedere qua cosa abbiamo Allora qui abbiamo il nostro chiellini ragazzi Che abbiamo già Poi Tadic, Gundogan, Delict Questo qui ragazzi è uno che ci interessa abbastanza Perché questo arriva a 97 ragazzi Poi Hazard, ok Rodriguez Vabbè quello che ci interessa di più però è Delict Delict Quindi ragazzi procediamo subito con la prima apertura Vediamo cosa becchiamo eh Ok MyClub Questi giocatori di Euro 2020 sono Vediamo Ah è lui è lui Subito l'abbiamo beccato Il Delict Ottimo ragazzi Veramente ottimo Quello che ci serviva di più di tutti Eccolo qua il nostro Delict Ce lo blocchiamo subito così evitiamo di Convertirlo o svincolarlo per sbaglio E' ottimo giocatore 21 anni 91 Contatto fisico Elevazione 94 Buono buono ragazzi Recuperò che si recupera la palla 93 E ci lo prendiamo tutto Eccolo qua Poi ragazzi abbiamo qui invece le leggende del Milan Con Ronaldinho Ronaldinho che deve essere la prima volta che capita questa versione Milanista Questa arriva a 97 Ragazzi Non mi convince però così tanto Da andare ad aprire qualcosa Quindi ragazzi procediamo con la leggenda E vediamo un po' cosa becchiamo stavolta Vedete Quelli che abbiamo Maradona Cruif Allora Adesso rimane Khan Che è uno che vorrei Ronaldinho anche Mi interesserebbe Van Basten anche Dicono che è abbastanza forte ragazzi E poi Poi nient'altro ragazzi Fra questi Fra questi qua Nient'altro Vediamo subito Cosa riusciamo a prenderci questa volta Via con l'apertura Eccolo qua My Club Legends Vediamo 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 chi è Vediamo E' Del Piero Del Piero ragazzi Abbiamo preso Del Piero In versione Italia Ok ragazzi Sempre bello Vedere Del Piero Però Ce l'avevamo già Questo Nella versione Iconic Moment Comunque Fa niente Ce lo teniamo E come Ed eccolo qua Il nostro Del Piero Teniamocelo Ci fermiamo Qui con le pescate Ragazzi Ma vi faccio vedere Un po' Con la squadra Adesso Che è un postato Allora Vedete Mané Ronaldo Ragazzi Naturalmente Ci abbiamo In panchina Fuori Neymar Che stava Con la lettera C Però adesso Lo rimettiamo Vedete La squadra È fatta E' fatta Poi abbiamo Anche quella Nella Uwe Ragazzi Che anche Quella è completa Grazie a Delict Che abbiamo Beccato Quest'oggi Bene ragazzi Per oggi è tutto Con questo video Vi ricordo Di lasciare un bel like Iscrivetevi A canale Per restare sempre Aggiornati Sui prossimi video E ciao a tutti Da Gian Ciao a tutti